Ciao a tutti, ci troviamo sul Monte Plaoris e arriviamo direttamente dal bivacco Coi percorrendo la attraversata delle prealpi giuglie. Questa qui è la casera ungarina che purtroppo abbiamo trovato chiuso. Quello che c'è fuori è un pannello solare, una telecamera e un caminezzo. Mentre questo stabilimento qua sotto sembra abitabile perché c'è due caminetti, c'è della legna fuori, però anche questo è chiuso con dei lucchetti. Quegli altri due stabilimenti là dietro sono due stalle, però sì, ci sono dei vecchi attrezzi, non c'è nulla dentro. Qui non c'è nessun punto d'appoggio, quindi si, ci tocca tornare indietro il rifugio Bellina, che sono due ore e mezza di camminata, anche perché sta arrivando probabilmente una tempesta. Quindi ci salutiamo qui, al prossimo video.